Le invenzioni scenografiche sono oggi estremamente avanzate, queste del teatro di Varsavia lo dimostrano, affascinanti e di un assurdo incredibile. Non è arte scenografica, è magia autentica, nei pantocci di paglia vediamo il ballo delle nostre speranze, la confusione dei nostri desideri per un anno nuovo che ci aspetta e per il quale ciascuno sarà l'astrologo di se stesso. E buon anno a tutti!